E carissimi amici, carissime amiche, un altro aggiornamento sull'epilogo della triste vicenda di Giulia Cecchettin con Filippo Turetta che come sapete è stato preso dalla polizia tedesca, quindi la sua folle corsa è terminata, terminata dopo una settimana. E diciamo che è stata, per quelli che sono gli ultimi particolari emersi, è stata una sorta di consegna, ecco, è come quando uno non ce la fa più a sopportare il sacrificio, la coscienza, la stanchezza. E' stato trovato fermo in autostrada sulla corsia di emergenza perché all'inizio si pensava che fosse un blitz della polizia, non so, che lui si fosse nascosto con la macchina, che si è come pure un posto di blocco. Niente di tutto ciò. Una battuglia della polizia stradale tedesca vede una macchina firma sull'autostrada nella corsia di emergenza. E ovviamente dal controllo di Tutin emerge che c'era dentro un giovane stanco, rassegnato, sporco, sporco ancora di quel sangue che aveva addosso, dopo che ben cinque giorni prima aveva scaricato il corpo della povera Giulia. Quindi, adesso ci sono le pratiche normali di estradizione e poi vedremo, vedremo cosa dirà, cosa racconterà, ma ormai tutte le chiacchiere, insomma, sono inutili. I particolari che emergono dalla prima ricognizione del cadavere che la giovane è morta con oltre 20 coltellate, immaginate, molte coltellate con segni di difesa. E così è finita, così è finita. Quindi in quella giornata di lunedì scorso, lui si è fermato nei pressi di quel lago, è scelso, finalmente ha tolto dal portabagagli dove aveva trascinato il corpo di Giulia Cecchettin, l'ha preso e non l'ha buttato giù per la scarpata, no. È sceso, è sceso perché abbiamo visto anche in tv le immagini, insomma, era anche un posto dove si poteva scendere per 20-30 metri, 40 metri giù e ha adagiato quel corpo lì, quella scarpata, diciamo. E poi aveva in macchina, o li aveva presi, ma credo li avesse pure in macchina, due sacchi neri e con questi sacchi neri ha ricoperto il corpo. Vedete, quando noi qui sul canale parliamo di sacchi neri, ci viene in mente tutta la diatriba del caso Resinovic. Tornano questi sacchi neri che in questo caso hanno ricoperto quel corpo, hanno ricoperto quel corpo come, non so, quasi un segno di residuo a pietà umana, di folle protezione, l'ha coperto così, forse per non vederlo, e se ne è andato via. Aveva portato per un giorno e mezzo il cadavere nel posto a bagagli e, per come si legge, nonostante i sei giorni il corpo è stato trovato in buone condizioni. Anche questo, anche questo particolare, rimando un po' alla mente tutti i discorsi che ci siamo fatti per il caso Resinovic, perché adesso bisogna vedere bene i particolari, se il corpo a certe temperature, dopo sei giorni, veramente fosse in buone condizioni. Comunque, il presidente Zaia della regione Veneto ha preannunciato il lutto regionale per il giorno del funerale, quando ci sarà, e ci si chiede ancora quali sono le motivazioni di una vita spezzata. Certamente non sono motivazioni logiche, non sono motivazioni alle quali si arriva con un ragionamento, perché nulla giustifica tanta rabbia, tante atrocità. I mostri non nascono all'improvviso. Il mio maestro Morelli diceva che dentro c'è sempre un freddo coltivato in costoro che mettono in atto questi delitti così atroci, ci sono sempre i segnali ripetuti e costanti, ed è colpevole chi non è riuscito a coglierli in tempo. E questi sono gli ultimi aggiornamenti. Vorrei solo concludere con una riflessione sul fatto che, se effettivamente porta la politica, porta avanti quello che io ho sempre sostenuto da anni, cioè la necessità, già dalla prima classe elementare, nelle scuole, di insegnare il rispetto, rispetto per la coppia, per la donna, per la vita umana, si semina, ecco, si sembrano valori che nel corso del tempo porteranno sicuramente a qualcosa di importante, porteranno certamente a seminare il bene, e quindi magari questi episodi qua non accadranno più. Quindi questo è l'ultimo aggiornamento, quindi vi lascio alla giornata di domani per gli aggiornamenti, per gli aggiornamenti, se emergeranno altri particolari. Un abbraccio a tutti quanti voi.